Ciao bambini! Da un po' po' che non torno alla Mother Base quando ho preso Quiet Tuomo con la stampella? Io ci ho messo sei settimane per imparare Io sono bambini o? E non sono armati soprattutto Figlia sei scarso mille, tirato da un bambino lo so io Tu pensi cosa, Boss? Io pensi che lui è più tuffa di qualsiasi Un po' di trattamento può rendere migliore Non mi piace bambini Especialmente bambini con armati Vedi, bambini è naturale Ti sei fatto rubare un'arma Con un braccio eh E sinistro Sì, abbiamo un asilo Non credo che Snake abbia avuto una vita normale alle metà Attento esplode Perchè quando fumessero va avanti il tempo? Non l'ho capito Sulle trecci Io properi di farle molto stelto Se eliminare guarda Il cittadino con il CFA È dovuto fare contattere C'è il suo cittadino 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 Deve guidarti al centro No, devo seguire qualcuno Non posso semplicemente ammazzare tutti Beh, io ti mando bo Non posso Che palle è Ah, ma è lì Io tirerò delicatamente Sopra il mio caralotto No eh Io chiamerò sempre caralotto Ho tanta mitri da percorrere Vuoi farmi fare a piedi? Ma va Guardi, tu vuoi essere investito? Non mi li marchi eh Serebbe troppo bello Si, ho capito Wyatt Ma va smettiti di cantare Sto sul cazzo con la cazzucina Il suo cittadino Deve essere Alguardo Immagino che non sia lui Ah Eccolo lì È lui sicuro No Però è buono Vedere che me lo ammazza Quiet Oh cazzo C'è solo un carro armato Deve passare di fianco Che tecnicamente era vostro Quindi non dovrete sapere di Non dovreste sapere di che Che nemico Pensavo ad andarsi dall'altra parte C'è un'altra strada Ricordi che questo L'altro 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 Scoprirmi E avere questa Ehm Shhh Non è successo niente Frenato proprio davanti a un agro Ehm Ah Le missioni Assassin Speed Ma perché da quel lato? Bastardo Io passo in mezzo Ehm Nessuno mi note Tranne uno stronzo Lo investo Sì? C'è Io questo qui me lo porto dietro E' sotto il carro armato Non credo che tu possa fuggire dal Ok Era più semplice perchè pensavo Chi è? Non lo vedo Ah Ciao Sì ma tu lì sotto? Ehi cazzo Ma perché sopravvivete? Come qua Ehi cazzo È lì da mezz'ora è quello che ho investito prima Sì quieto potresti anche aiutare Bravo Sì, non c'è l'altro, non c'è l'altro, non c'è l'altro. E' parlato dell'elicato? Dove è andato? Ho visto... Ah, ecco ti. Cosa? No. Ma se era lì? C'è l'area dell'anno prima. C'è lì? 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 Tanto quali non mi ha mai sentito. Vabbè, certo, io ho battuto tutto tranne quel alberello. Faremo un attacco ad accerchiamento come prima. Allora, vabbè. Oh, lo vorrei catturare, sinceramente. Allora, vabbè. Vabbè, potremmo ci informazioni sulle Cypher. Il contratto specifiche che eliminiamo lui. Non dice come. Talki a te, boss. Fire! Non, 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 non. Così, non, 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 non. Prendete interlock Sexualman ma delosager. Questa spaz Boss, get down. That's an illegal tube. Stay low and crawl on the ground. That should be what you see past 80's. We can't let them follow you. Draw off the enemies on your tail first. Okay. Vabbè, quiet di merda, me l'ha ammazzato. All right.